Ciao a tutti ragazzi, sono Joker e siamo tornati in un nuovo episodio del Rotomunicidio livello 9 al massimo perché ci sono tante altre novità sul mio villo Oggi tra l'altro ragazzi vi anticipo che andremo a fare insieme l'ultima torre dell'arciere livello 11 ragazzi perché ci serve 4.400.000 adesso andremo a fare un bel attacco in live insieme con dei giganti e un po' di archi così e con qualche pozione mi pare due cure e una cura ho fatto due cure, una cure e una salto tra l'altro rimettiamo a ripreparare due cure e una cura e ragazzi tra l'altro visto che il video con mio fratello vi è piaciuto davvero tanto ha ricevuto tanti like quindi presto torneremo e gli spiegherò tantissime risorse poi ragazzi mi avete detto in molti video che confondo le parole di cotore dello strigone, postore dell'arciere eccetera quindi proverò a parlare più lentamente e meglio ragazzi ci proverò allora cos'è successo al mio video? innanzitutto come vedete ho messo a ricercare la porzione di salto a livello 2 perché mi era terminato non ricordo cosa mi era terminato se non erro la cura mi sembra mi era terminata la cura a livello 6 se non erro comunque come vedete avevo tutte praticamente le truppe al massimo mi restava soltanto il guaritore che però per ora non mi serve quindi ho preferito fare l'assalto che dura ben 20 secondi in più e quindi molto più utile non devo starvi a calcolare il tempo a volte la metti troppo presto e poi si esaurisce no 40 secondi sono più che sufficienti dopodiché appena finisce l'assalto tra 3 giorni metterò i domatori a livello 4 perché me le voglio portare sul far 5 per quanto riguarda invece il mio video ragazzi ho portato entrambi volano a livello 4 adesso manca di portare il far 5 ma per questo ci penserò un attimino fra più avanti no fra molto ma più avanti e cos'altro? ah avevo messo a fare non so se già ve l'avevo detto la fabbrica dell'incantesimo oscuri livello 3 sarà pronta fra un giorno quindi fra pochissimo poi sono riuscito a mettere un'altra torre dell'arciere eccola qui ragazzi livello 10 che quindi è pronta tra poco questa era già in ballo e quindi ragazzi tra una saranno pronte tutte le torri delle arciere dopo ci resteranno solo e soltanto i cannoni e due fottutissimi al Kicks ho deciso tra l'altro di mettere la legina livello 8 a fare così ragazzi tra un giorno e 8 ore sarà pronta ho il nero per fare i domatori appena mi finisco appena rifaccio il nero la ributto subito in app perché voglio portare gli eroi almeno al 15 entrambi gli eroi al 15 perché fanno davvero la differenza i domatori sono occupati questi 3 il quarto motore sulla legina quindi vi ho detto tutto adesso andremo a occupare il quinto ed ultimo costruttore ragazzi andremo insieme a cercare un attacco facciamo così siccome ci metterò un po' perché voglio cercare le risorse allora cerco l'attacco e non appena ho trovato uno con big risorse possibilmente abbandonato poi ci ribecciamo tra l'altro ragazzi sono sceso di lega perché ho fatto tipo un paio di fail cioè due volte volontariamente perché ho trovato debili abbandonati in master ragazzi con tante risorse quindi chi se ne frega perde trofei e poi tanto per più mi ci vuole poco a risalire da cristallo 3 a master però ragazzi adesso farmeremo e quindi non guardo trofei ci ripetiamo dopo allora ragazzi io già un po' che schifo potrei rischiare di fermarmi a questo anche se al castello del clan centrale dovrei riuscire a stanare le truppe perché se no davvero non troviamo niente è molto foro cioè abbastanza messo bene però ce la possiamo fare dai allora io provo ad attaccare questo ragazzi proviamo a stanare da qui sperando che non abbia truppe nel castello del clan sembrerebbero non esserci truppe ragazzi quindi allora intanto mettiamo un arco qui io vado da qui sperando di non aver breccato proprio il punto delle trapo perché se no ragazzi sono proprio sfigato facciamo entrare i nostri bellissimi giganti è lo stesso principio della guva e poi alla fine no? e puliamo con gli archi no? comunque ragazzi se vi state chiedendo come mai non scendo per fermare è perché fra poco una bella pozione per favore grazie se vi state chiedendo come mai non scendo per fermare è perché fra poco ragazzi il mio clan inizierà una scalata e quindi non voglio scendere proprio perché visto che sono già qui mi sembrerebbe un po' stupido riscendere il nuovo pinargento per scalare per poi risalire nel frattempo i miei giganti sono morti tutti perché probabilmente aveva le cazzo di truppe nel castello del clan che non lo so come mai non sono uscite forse l'ho descato male adesso non facciamo morire magari il mio bellissimo gigante e il gigante re barbaro curiamolo va curiamo re barbaro un po' d'arche a sostegno qui l'assalto me la risparmio a questo punto abbiamo fatto un mezzo fail chi se ne frega va bene così l'importante è che abbiamo preso quelle poche risorse che ci servivano per mettere il nostro come cazzo si chiama per mettere la nostra ultima torre dell'arciera anche se non sono proprio contento di perdere 28 trofei lo dico sinceramente perché comunque in master io ci volevo ne entrare però vabbè a questo punto terminiamo la battaglia perché porca puttana vabbè abbiamo comunque preso 95.000 e 100.000 di oro che non è un edilisic abbiamo rimesso un bel po' però ragazzi i co-giganti non so attaccare nel frattempo è finita la guerra abbiamo vinto 49.23 beh diciamo è stata una war molto equilibrata dai tra l'altro loro ragazzi dopo se ho tempo la faccio vedere erano messi anche meno su cazzo comunque direte voi cazzo ma non si arriva mai alla somma di 4.500.000 ma no ragazzi state tranquilli c'ho l'asso nella manica il bottino nel castello del clan per fortuna avevo calcolato tutto avevo calcolato anche che avrei fatto un fail quindi mi hanno lasciato anche qualcosa in più quindi adesso abbiamo 4.500.000 per mettere l'ultima torre dell'arciario guardiamo che non ci siano ostacoli talivari non ci sono ostacoli pronti attenti via ragazzi manca veramente poco ad essere maxati con le difese adesso ci restano soltanto i nostri cazzo di cannoni e questi due archicks ah ragazzi dimenticavo anche questi volano che rompono le palle se volano ragazzi da migliorare tu coglioni guarda e non so io dovrò ritornare a master e quindi dovrò farmi 130 trofei adesso non so che strategia usare perché sinceramente a master mi trovavo bene con arche barbari invece qui devo usare giganti queste tecniche strane a me stanno un po' cagare con giganti perché saltano per aria non mi piace usare giganti vabbè comunque stavo dicendo prima se vi chiedete perché non scendo a farmare perché appunto tra poco inizieremo la scalata tipo dal 10 non ha senso che io scendo ora in argento per poi risalire di 1000 trofei non c'ho voglia quindi non scendo per quello altra cosa molti mi hanno chiesto come registro quindi farò un videotutorial allora appena ho tempo perché devo fare 2000 video e il contest videotutorial e il road e poi altre cose che ho da parte ragazzi quindi ci sarà tantissimo tantissimo materiale in questi giorni quindi sono contento ragazzi anche per voi soprattutto per voi che vedrete tanti video senza interruzione questa volta ragazzi siamo sempre più vicini a salire se potessi fare questo jamming ragazzi adesso ora mancherebbe veramente poco ma tanto non ho furia perché appena di salire voglio comunque farmi tutte le mura a livello 8 se sto guardando tutte le mura a livello 8 a livello 9 e reali minimo entrambi a 15 quindi ragazzi ne passerà di tempo ne passerà di tempo comunque spero che questo video vi sia piaciuto se è così stato lasciate un bel like qua sotto se volete sapere come prendere tante gemme vi lascio il link in descrizione per tap loot ragazzi trovate il link in descrizione dove vi spiego tutto come fare è davvero il metodo migliore e funziona benissimo niente se non siete iscritti iscrivetevi al canale e io saluto giocheri e tutto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ragazzi